Una buona serata e una buona domenica a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. È stata una settimana intensa, ripercorriamo dunque insieme i fatti più importanti. A Palazzo Ducale per la festa del Redentore Vela ha organizzato una grande cena tradizionale dedicata agli sponsor della città. Il problema è che innanzitutto vi è una concessione che risale al 1924 del Ministero di allora del De Magno che dà al Comune di Venezia la concessione del Palazzo Ducale, però dove si vieta espressamente di organizzare feste e cene. Il documento, sventolato trionfalmente dal consigliere a 5 stelle Davide Scano, è datato 4 marzo 1924 e porta la firma di Sua Maestà Vittorio Emanuele III per volontà di Dio e per grazia della Nazione Rai d'Italia. Tra le sue righe si vieta espressamente al Comune di Venezia di destinare Palazzo Ducale di proprietà della Corona, feste e concerti. Un provvedimento che non è mai stato abolito, sostiene Scano, perciò abbiamo presentato un'interrogazione a Caffarsetti per chiedere conto del loro comportamento a sindaco e assessori che la sede del Redentore hanno cenato, ospitati da Vela, proprio nella residenza dei Doji insieme alle loro famiglie. Non si tratta soltanto della violazione di una legge, per quanto antiquata, sostiene il grillino, ma di una questione di principio. Non capiamo cosa abbiano di diverso dagli altri cittadini, gli assessori e i loro familiari per potersi permettere di utilizzare in esclusiva un patrimonio di tutti, come Palazzo Ducale, per le loro cene tra amici. Troviamo che sia del tutto irriguardoso verso i comuni cittadini di Venezia. Riteniamo che il sindaco abbia fatto molta più bella figura l'anno scorso, quando a piedi ha girato per la Giudecca, fermandosi ai vari tavolini delle persone comuni a salutare, a bere un'ombra, a mangiare i boboeti insieme, piuttosto che fare il degno erede di orsoni, costa e cacciari e mangiare all'interno delle mura chiuse del Palazzo Ducale. La nostra preghiera è oggi per tutte le vittime del terrorismo, ma in primis per i bambini della strage di giovedì sera a Nizza e i loro familiari. Di fronte a un gesto così terribile di odio, ci sentiamo sgomenti e invochiamo la grazia della conversione e il ritorno a un senso di vera umanità. Le parole del Patriarca Francesco sono state pronunciate durante l'Omelia della Messa Solenne per il Redentore. Il tema del terrorismo, accanto a quello dell'immigrazione, è stato al centro anche della preghiera finale, composta da Moraglia per l'occasione. Il terrorismo, recita un brano di questa preghiera, esprime la logica dell'umanità che si sostituisce a Dio e pensa ad essere in grado di salvare la storia. È la logica dei campi di sterminio e dei gulag, è la forma crudele di una guerra diffusa che non si ferma dinanzi a nulla e tutti ovunque vuole colpire. Nella stessa occasione, il Patriarca ha commentato il recente sfregio di un crocifisso del Settecento compiuto da un nord africano nella chiesa di San Geremia. Scagliarsi contro il crocifisso, ha detto, significa profanare quegli stessi valori che proprio il crocifisso, al di là del suo significato religioso, ha originato nella nostra cultura e ancora oggi tiene desti nella nostra società. L'accoglienza, il perdono, la riconciliazione e la misericordia. Per questo, certi tristi episodi, al di là della persona e delle motivazioni che l'hanno accompagnata, vanno vagliate con attenzione ed è opportuno che sia tutta la società a prenderne le distanze, a cominciare dalle comunità religiose, perché non manchi mai il rispetto e il riconoscimento reciproco. La tecnologia al servizio della sanità e alla portata di tutti, grazie alla nuova applicazione per cellulare Info Pronto Soccorso realizzata dalla Regione Veneto, che permette di localizzare in pochi istanti attraverso il proprio telefonino, il pronto soccorso più vicino, quanto c'è da attendere, con una lista d'attesa aggiornata di continuo, con tanto di livello di gravità dei casi, e la possibilità di scegliere un'alternativa, il tutto comprensivo anche di indicazioni stradali e tempi di percorrenza. È il primo passo di una nuova rivoluzione nella sanità veneta, che vivrà in futuro l'aggiunta di ulteriori servizi, ha detto il Presidente della Regione, Luca Zaia, che ha presentato la nuova applicazione assieme a tutti i direttori generali delle aziende sanitarie venete. È straordinario sapere quante persone ci sono in sala d'attesa del pronto soccorso. Avere l'informazione sul medico più vicino, sul pronto soccorso più vicino, significa rivoluzionare anche l'accesso alle informazioni e agevolare la vita dei nostri pazienti, dei nostri cittadini. La Regione ha realizzato l'applicazione in-house, vale a dire attraverso propri organismi, con una spesa in consulenza esterne di appena 1000 euro. Si presenta facile da utilizzare, una caratteristica fondamentale per un servizio che intende rivolgersi ad un'utenza il più ampia possibile. L'anziano si è accompagnato da un nipote o da un figlio, magari questo nipote o questo figlio avrà uno smartphone e riesce a dire, guarda papà, mamma o nonno, e sappi che lì troveremo 30 persone, delle quali 4 sono gravi, forse vale la pena che andiamo in un altro pronto soccorso. Questo è un bel servizio. L'applicazione sarà disponibile tra un mese anche nelle principali lingue straniere, ma soprattutto verrà implementata nel tempo in una più ampia applicazione Sanità Veneto. La georeferenziazione di medici di base e farmacie. Dopodiché io spero, con il tempo, quando riusciremo a partire bene con le medicine di gruppo e avremo una segreteria che registrerà come accade nei pronto soccorso i pazienti dal medico di base, daremo modo nei mesi, negli anni, anche ai pazienti di sapere quanti malati sono lì in lista d'attesa dal medico di base, quindi sono lì in sala d'attesa. È la prima volta che capita una cosa del genere in Italia. Sì, infatti si fa in Veneto. Sei giorni di operazioni interforze disposte dal questore di Venezia nel quadrilatero tra Via Piave e Corso del Popolo. La più recente nel pomeriggio in Via Fogazzaro, pochi minuti prima del sopralluogo dell'assessore comunale alla sicurezza Giorgio D'Este e del comandante della polizia municipale Marco Agostini. Siamo qui, spiega D'Este, soprattutto per parlare con i cittadini e far sentire a loro la nostra vicinanza. Li vogliamo continuare a sentire, vogliamo sapere nel dettaglio quello che accade per cercare di essere i più incisivi possibili nei vari problemi, avendo tutte le informazioni utili proprio per fare le relative attività di polizia. Ai Mugugni di chi lamenta un peggioramento della situazione in Via Fogazzaro da quando l'amministrazione è intervenuta su Via Piave facendo emigrare gli spacciatori di qualche decina di metri, l'assessore risponde così. In parte dobbiamo dargli ragione. È chiaro che con le difficoltà normative che ci ritroviamo, non potendo procedere in un certo senso nei confronti di coloro che delinquono, qualcuno si è certamente spostato. Cerchiamo ovviamente di allontanare e di cacciare questo fenomeno definitivamente dal nostro territorio. Intanto la consigliera della lista Boraso, Maica Cantona, ha presentato un'interpellanza legata proprio a Via Fogazzaro. Nell'interpellanza si chiedeva anche di aumentare il numero di metri delle telecamere a sorveglianza. si sta provvedendo anche adesso a fare un esposto a prefetture in modo tale a coordinare chiedendo anche l'esercito a vedere se è possibile avere anche dei controlli dell'esercito in modo tale da cercare di arginare, di sistemare almeno i problemi che ci sono per gli abitanti che qui sono sempre più esasperati. Con l'attuale quadro legislativo che usa il presidente della Commissione Sicurezza del Consiglio Comunale, Enrico Gavagnina, c'è una sola cosa che possiamo fare. Dobbiamo colpire il business, noi stiamo colpendo il business dello spaccio. Dobbiamo fare in modo che il mercato dello spaccio stupefacente a Mestre sia un mercato cattivo per lo spacciatore. In questo modo c'è l'allontanamento di questo mercato degli stupefacenti. Questa è l'unica soluzione che si può fare in questo momento con questo tipo di legislazione. Noi ci siamo mossi assieme al sindaco Luigi Brugnaro per sbloccare la situazione. La prima vicenda è che il comune di Venezia cioè i nostri concittadini diventino proprietari di vecchi padiglioni e di quell'area verde che oggi purtroppo è preda di molte persone sbandati spacciatori di ogni risma di ogni tipo. Sembra finalmente vicino ad una svolta il futuro dell'area dell'ex Umberto I a Mestre. Una ferita aperta nel cuore della città a pochi passi da Piazza Ferretto via Circonvallazione via Ospedale strade sprofondate con la chiusura delle strutture sanitarie in una condizione di degrado e di criminalità più volte denunciata dai residenti esasperati ai nostri microfoni. Quello che si è aperto con l'abbattimento dell'ospedale ha trasformato una vasta area del centro in una terra di nessuno ricovero di sbandati e piazza dello spaccio di droga ma la soluzione ora potrebbe essere vicina. Siamo per ottenere le delibere da parte delle banche che tolgono questi beni su questi immobili. Fatto questo andremo a Rogito e finalmente il padiglione Dezottis, Cecchini e l'ex distrito sanitario eccetera diventeranno proprietà del comune di Venezia nonché quell'area grande area verde di 1,8 ettari. Abbiamo firmato una deltermina per abbattere tutti quegli immobili abbandonati prima della chiesetta ortodossa a cui ci sono i presenti ortodossi di erito greco. Una volta che l'area sarà entrata nella disponibilità del comune e che saranno effettuate le prime demolizioni bisognerà reinventare questa zona di mestre. Potrebbero esserci interessi dei privati la zona è appetibile per chi ha due passi da Piazza Ferretto? Sì, la zona è appetibile ci possono essere interessi dal punto di vista residenziale di social housing ma anche per esempio l'antica scuola abbattuti e fa avanzata una richiesta di interesse strategico per quell'area perché comunque è il centro della città con tutti i servizi che significa spesso dar risposte in maniera concreta e effettiva alle esigenze dei nostri concittadini però quello che ci preme di più è riportare ordine sicurezza e togliere dal degrado un'area che abbiamo ereditato disastrata. È stata approvata l'unanimità da parte della commissione attività produttive della Camera la risoluzione per il rilancio produttivo del distretto del vetro di Murano proposta dal deputato PD Andrea Martella Il documento impegna il governo a valutare l'opportunità di riconoscere l'isola di Murano come area di crisi non complessa e a promuovere misure di sostegno e sgravi fiscali con agevolazioni per le piccole imprese in particolare per incentivare l'adozione di strumenti per l'abbattimento delle emissioni di agenti inquinanti nocivi dalle lavorazioni del vetro Si chiede inoltre all'esecutivo di assumere iniziative per rafforzare le misure di contrasto della contraffazione e di tutelare anche il marchio collettivo vetro artistico di Murano Il Ministero dello Sviluppo Economico istituirà un tavolo tecnico permanente finalizzato a potenziare la collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria in tema di tracciabilità e sicurezza dei prodotti Un ulteriore tavolo interministeriale sarà attivato per affrontare le problematiche connesse alla tipologia delle produzioni e prendere misure di sostegno alla ricerca per il contenimento delle emissioni nocive delle produzioni La lavorazione del vetro di Murano sarà inoltre candidata a quale bene intangibile dell'UNESCO Pensiamo che abbia tutti i titoli e requisiti per poterlo fare che questa produzione che da secoli costituisce una produzione di eccellenza di richiamo mondiale fin dal XII secolo possa avere anche questo grande riconoscimento oggi si tratta ovviamente di conigare quella storia quella produzione con le innovazioni necessarie dal diritto organizzativo ambientale tecnologico e fiscale che possono fare di questa produzione una produzione che sfida anche il mercato contemporaneo Riconosciuto da una pattuglia dell'esercito che presidia il quartiere Piave Ahmed Shridi detto Bandana Tunisino di 27 anni è stato arrestato dalla polizia clandestino e ritenuto dalle forze dell'ordine un elemento fondamentale nello spaccio di stupefacenti amestre in particolare nell'area di via Cappuccina e via Fogazzaro due strade divenute nell'ultimo periodo un supermercato della droga aperto 24 ore su 24 la polizia ritiene anche che l'arrestato sia l'autore dell'aggressione di domenica 10 luglio ai danni di un residente di via Fogazzaro malmenato davanti ai figli dopo che aveva rifiutato l'acquisto di stupefacenti un episodio che aveva aumentato se ce ne fosse stato ancora bisogno l'allarme in una zona della città che si sente sempre meno sicura pochi giorni dopo Giorgio Deste assessore alla sicurezza del comune di Venezia aveva effettuato un sopralluogo accompagnato tra gli altri dal comandante della polizia municipale Marco Agostini nel frattempo la polizia era già sulle tracce di Bandana aveva ricostruito minuziosamente i fatti ed evidenziato all'autorità giudiziaria l'elevato allarme che l'aggressione aveva procurato nella zona ora sono in corso accertamenti per l'espulsione dal territorio italiano del tunisino dopo che le autorità consolari hanno fornito le sue esatte generalità l'uomo aveva più volte fornito identità false in via Fogazzaro si tira un mezzo sospiro di sollievo ma la strada da percorrere è ancora lunga come ci racconta la moglie del residente aggredito che preferisce non essere riconoscibile l'arresto non ha fermato un'attività di spaccio che per ora prosegue come nulla fosse sinceramente è cambiato di poco mettono il loro passaggio soltanto quando passano le pattuglie della polizia e poi tornano adesso passando sotto casa ne ho visti parecchi sempre gli stessi non ci sarà lui però la paura comunque rimane sono tutti uguali per me in questo momento quindi non ha avuto un effetto deterrente nei confronti degli altri per l'arresto no secondo me no i pokemon sono anche una possibilità per il centro di rinascere perché nei centri commerciali sostanzialmente non ci sono pokemon non si può giocare perché sono isolati ecco e invece il centro è pieno di pokemon anche rari e quindi è un'occasione per i negozianti per i commercianti per tutto il centro della città di guadagnarci di riprendere a vivere grazie a un giochetto tranquillo innocuo il centro di mestre potrebbe anche ripartire così il fenomeno recentissimo della caccia agli animaletti virtuali che hanno invaso le nostre città da quando è stata rilasciata l'applicazione pokemon go ha cambiato in modo significativo le abitudini di molti giovani mestrini che sono tornati a popolare il centro sulle tracce di questi esseri immaginari il centro è pieno di punti di interesse i punti di interesse sono diciamo dei negozi dove tu prendi degli strumenti per il gioco che ti possono essere utili quindi sei diciamo sostanzialmente costretto a camminare a visitare anche i posti interessanti perché i punti di interesse sono nelle zone più belle della città dove c'è una statua c'è un punto di interesse quello del genere così centinaia di ventenni hanno cominciato a frequentare assiduamente il parco di Villa Querini dove si trova una palestra luogo virtuale degli scontri tra i mostriciattoli e altri punti nevralgici di questa singolare geografia come quello ribattezzato Valalla dal nome del paradiso vichingo la Valalla è un punto di piazza ferretto tra piazza ferretto e via Poerio dove ci sono tre punti di interesse e i ragazzi si mettono là a giocare essenzialmente perché nei punti di interesse tu puoi attivare diciamo delle esche per attirare pokemon e là sono attive tutto il giorno perché i ragazzi ci giocano e infatti ci sono sempre pieni tipo 20-30 ragazzi là quindi se vedete tanti ragazzi che con il telefono in mano è perché stanno giocando meno rose è la situazione in Laguna dove forse a causa di difficoltà tecniche il gioco stenta a decollare c'è un problema a Venezia che sostanzialmente non ci sono pokemon cioè è piena di diciamo punti di interesse interessanti per il gioco piena di palestre ma neanche un ratat ha un pigi e quindi assieme a tanti ragazzi qua a Mestre e a Venezia abbiamo deciso di di tirare su una petizione per scherzo e alla fine abbiamo raccolto più di 700 firme da tutto il mondo anche la Francia uno svizzero ha firmato vicenda che non ha mancato di suscitare polemiche tra qualche veneziano poco incline all'umorismo se andiamo a bere un aperitivo non va bene se ci divertiamo in altro modo neppure replica l'autore della petizione non capisco che altro dovremmo fare a 20 anni ti bevi una birra giochi a Pokemon Go la cosa migliore ti fai una camminata sei tranquillo perfetto stiamo realizzando un impegno che possa prevedere il fatto che la gestione futura del Mose possa essere attribuita alla città metropolitana di Venezia è stata depositata lo scorso maggio alla commissione ambiente della camera la proposta di legge dei parlamentari del PD per assegnare al sindaco metropolitano la gestione in esclusiva del Mose che verrà finalmente ultimato nel 2018 secondo il testo del PDL la città metropolitana dovrà dotarsi di una realtà tecnica in grado di gestire il Mose nella pratica naturalmente con risorse ingenti trasferite dallo Stato ho anche scritto al ministro Enrico Costa annuncia al deputato Andrea Martella per chiedergli lumi sulle tempistiche del trasferimento alla città metropolitana delle competenze dell'ex magistrato alle acque mi ha assicurato che il provvedimento necessario è imminente abbiamo fatto lavorato nel corso di questi anni però di questi mesi per fare in modo che alla città metropolitana e al sindaco di Venezia vengano attribuiti più poteri e più competenze sulla laguna sul suo disinquinamento sul suo risanamento sulla polizia lagunare è la prova che osa Michele Mognato che i parlamentari veneziani hanno fatto la loro parte come l'hanno fatta per ridurre le sanzioni dovute allo sforamento del patto di stabilità il tema vero che ci si pone è che c'è una narrazione confusa da parte del sindaco che non sempre aiuta a far approvare i provvedimenti giusti per la nostra città una narrazione confusa se il sindaco dice che per il salva Venezia si poteva fare di più non ha torto perché si può sempre fare di più riconosce Mognato ma certi toni non fanno sicuramente bene al confronto istituzionale il governo ha respinto un emendamento che ha quello che metteva una pietra tombale ma nello stesso tempo ha approvato gli emendamenti che dicevo che aiutano il comune di Venezia certo poi anche l'amministrazione deve fare la propria parte insomma e quindi deve fare quelle azioni rivolte al risanamento definitivo del bilancio del comune di Venezia che è penalizzato dalle vecchie entrate della legge speciale dal casino di Venezia Anche se della data non c'è ancora certezza 38 nuovi magistrati 29 giudicanti e 9 pubblici ministeri sono in arrivo in Veneto grazie all'avvio della procedura di revisione degli organici avviata dal ministero della giustizia Siamo sottostimati nell'ordine del 60% cioè il numero di cui vi ho parlato sono infinitamente più ampi più alti di quelli che arriverebbero con questo intervento però resta il fatto che se dovevano arrivare 200 magistrati e arrivano 40 o 50 di un quarto la situazione viene alleviata e le cose cambiano si migliorano sicuramente La carenza di personale rappresenta oramai uno dei problemi storici del settore una questione di così lungo corso da spingere il procuratore generale della Corte d'Appello di Venezia Antonino Condorelli a definire il cambio di rotta eversivo Eversivo rispetto a una tradizione di immobilità assoluta di stagnazione totale il ministro finalmente dimostra di essere il ministro della giustizia cioè fa qualcosa Oltre alla riorganizzazione del personale che poi dovrà essere redistribuito in regione a Venezia ci si prepara anche ad una rivoluzione logistica entro tre o quattro anni diversi uffici giudiziari del centro storico migreranno alla volta della cittadella della giustizia di Piazzale Roma dove al già operante si uniranno le corti d'appello la procura generale gli uffici dell'UNEP gli ufficiali giudiziari insomma praticamente tutto tranne il tribunale civile di Rialto un trasferimento questo seguito con molta attenzione e interesse anche da Caffarsetti rimarrebbe completamente a disposizione del comune Palazzo Cavalli perché Palazzo Cavalli è proprietario di questo palazzo che adesso abbiamo noi incomodato gratuito e quindi c'è un grosso interesse da parte del comune di rientrarne in possesso e anche Palazzo Grimani rimarrebbe sostanzialmente a disposizione del demanio perché è un palazzo demaniale ed ha un valore come peraltro anche Palazzo Cavalli hanno valori inestimabili e questi erano i fatti più importanti che hanno caratterizzato la settimana veneziana TG Venezia Mestre termina qui vi ringrazio per essere stati insieme a noi vi auguro una buona serata e un buon inizio di settimana arrivederci gotta be magna tipo TG indispens HP S público che altro venezia 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 Grazie a tutti.